Ciao mio caro amico aspirante 3D professionista e profittevole, oggi è giovedì 14 marzo 2019 Allora, questo è il market profile della sessione pitusa di ieri, come vedi ieri abbiamo aperto un gap up perché c'è questo rettangolo, io considero il gap up rispetto al massimo del giorno precedente pitusa, come vedi e niente, abbiamo aperto un gap up, il mercato è andato a rialzo e poi c'è stato questo importante pullback e questo è un livello importante, questa linea magenta, poi ovviamente c'è la value area low, questa linea blu e la value area high, questa linea rossa Bene, questa foto è stata scattata a 1 minuto e 32 secondi prima dell'apertura e il mercato, come vedi, a 1 minuto e 32 secondi dall'apertura, il mercato stava aprendo il range, ok? Siamo qua, nel range pitusa di ieri, ok? L'Asia session, come vedi, è andato a rialzo e poi nella London session abbiamo avuto una rottura un'estensione del range overnight dall'Asia session sia sul massimo che sul minimo, ok? Quindi abbiamo aperto comunque nel range pitusa di ieri Bene, il primo trade che ho fatto io è stato quello di posizionarmi con 10 contratti pendenti alla rottura di questa sandera blu a 1 minuto qui, ok? Perché? Praticamente sono entrato, cioè volevo entrare proprio in prossimità del view up vedi qua, del view up della sessione pitusa dove c'è anche il Pio, sì, il massimo volumi, come vedi quando il mercato si è avvicinato a questa linea blu che è la value area low di ieri con target, ora vi farò vedere come sono entrato la mia posizione di 10 contratti è molto pesante perché abbiamo aperto il range quando apriamo il range io mi aspetto minor movimento e quindi muovendo di meno il mercato aumento la posizione della mia size per avere lo stesso tipo di profitti Bene, alla rottura il mercato mi ha eseguito il mio stop loss sotto la linea blu che è la value area low che coincide anche con un nodo di basso di volume, vedi qui, questo è il super dom, il book e i miei target sono un tick sopra la linea a tratteggione arancione che è l'apertura oggi pitusa e un tick sotto la linea a tratteggione blu che è il punto di mezzo della sessione pitusa di ieri Bene, come sono entrato? Come vedi il mercato cosa fa? mi va a target, va a rialzo e mi prende il target in un minuto praticamente, ok? Un minuto e mezzo e questo è il mio primo trade profittevole sfruttando, mi vedi anche il super dom perché io sono un trade dinamico reagisce con vari strumenti, uso quello che ho davanti ai miei occhi e il primo trade profittevole, vedi poi il mercato è salito mi ha portato a 625 dollari di profitto Bene, il secondo trade è stato entrare short sotto, vedi, questa linea tratteggiata qua che è il punto di mezzo della sessione pitusa di ieri come vedi, sono entrato un tick sotto qui il mio stop loss è soprattutto, meglio, sopra questo nodo di bassi volumi da super dom i primi due target sono sul view up della sessione pitusa che corrisponde anche a questa linea color sciriano che è il nodo di bassi volumi preso da market profile della session overnight l'ultimo target era a questo livello qua va bene? bene, come sono entrato il mercato mi dà ragione questo è il grafico a 5 minuti come vedi c'è stata una finta rottura di questa andata a 5 minuti, rimbalzo sul view up e poi può andare a scendere di nuovo e il mercato mi ha preso i miei primi due contratti a questo punto ho mosso il mio stop loss da qua a break even e il mercato purtroppo ha fatto un rally, un leggero rally rimbalzando sul view up pitusa e mi ha stoppato un rally stop loss ma poco importa perché quello che conta è che ho chiuso la mia sessione come vedi poi il mercato è andato proprio su massimi ho chiuso la mia sessione in totale 725 dollari profitto quindi ho aggiunto altri 100 dollari con l'ultimo trade e se anche tu potrai in questo modo fare meglio di me nel mercato rifiuto e in azione di opzioni allora scrivi la tua storia adesso e manda un link sotto a questo video io ti auguro grossi grazie su questi profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao da Armati e ci vediamo domani al prossimo trade profittevole ciao